Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della Sky Adventure Questo qui è un episodio di preparazione perché nel prossimo, in teoria, dovremo andare nel land Appunto a provare ad affrontare quella specie di Ender Dragon della Draconica Che non so se riusciremo a fare Ragazzotti, come già detto ci dobbiamo preparare In che modo però? Allora, ho visto un pochettino di cose spicy Ho tante cose da fare vedere a dirvi Alcune sono qua nell'inventario ma vedrete dopo Allora, intanto ho notato una cosa La mia spada non è l'arma più forte che c'è in questa mod Infatti la nostra spada potenziata fa 61 di danno Potenziata quasi a livello massimo, cioè è sicuramente il massimo come posso fare io ora Però ecco, c'è questa roba qui che fa 60 di danno Però 60 di danno a livello 1 Mentre la mia a livello 1 faceva 34 di danno Quindi, hey, è più potente, ma cos'è questa roba? Praticamente è un piccone con la pala e con la spada Quindi nel crafting c'è anche la spada Ed è una cazzata da fare Quindi ho detto, vai, facciamolo, facciamolo Mi sono già portato avanti con i crafting Infatti ho fatto tutta la roba in wyvern Che era veramente una cazzata da fare Perché è un crafting semplicissimo Cioè, dovevo semplicemente andare lì e craftare l'oggetto Non devo fare nulla con una crafting table Ho già preparato gli oggetti E tra l'altro, eccoli qua, appunto Off camera mi sono anche portato un bel po' avanti Con un po' di cose Con cosa mi sono portato avanti? Con l'armatura, ragazzotti Infatti, premo control, guardate È tutto a livello wyvern RF, capacity su tutti Scudo, capacità di scudo Qua l'ho messo un pochettino più alto lo scudo Perché praticamente era l'unico pezzo Che dava di più, mi sembra Sì, infatti, raddoppiava quello iniziale Questo qui era quello che conteneva di più sin dall'inizio E quindi l'ho messo in draconic L'unica cosa è il jump boost Che ho visto che non lo posso fare Perché mi servono dei pezzi di slime Che non ho E niente, per tutto il resto È perfetto, ragazzi Giustissimo così Allora, qua abbiamo fatto tutto Sì, bisogna lasciare il piccone in mezzo Buttiamo la spada qua La palla da una parte E bisogna prendere altri pezzettini di draconium Ragazzotti, però c'è un piccolo problemino Che io non vi ho detto Eh sì, perché giustamente I problemini ci stanno sempre Intanto qua lo posso fare Sì, ecco Io vi ho detto che questo qua Sta a 59 di danno La mia spada Standard Sta a 34 Però quella che ora In questo momento Prendiamola un attimo Fa 61 Con questo upgrade Ragazzi Se si trasferiscono Gli upgrade Ho una spada Veramente potente Se non si trasferiscono Gli upgrade Effettivamente ci ho perso 2-3 di danno Però non dovrebbe essere Gravissima come cosa Perché qua vi ricordo Che ho i crafting già pronti Per fare velocemente Qualche upgrade Ha già fatto, ragazzi Ha già fatto Anche se qua È un po' preoccupante La cosa Perché dice 6 di danno Ma se ridanno Forse perché scarica Quindi proviamo a caricarla Perché io comunque Va bene tutto Però non mi fido più Di tanto delle cose Ok l'ho appena caricata Appena l'ho caricata Mi dà subito 60 Invece di 59 Tra l'altro Perché Ok quindi Quando scarica l'arma Fa sempre del danno Quasi quanto una spara normale Però fa un po' schifo Non ha trasferito Gli oggetti ragazzi Infatti gli oggetti Sono andati tutti persi Mi dispiace un sacco Di questa cosa Perché ragazzi A livello di danno Non gli avevo messo Soltanto il danno normale Ma gli ero andato a mettere Anche quello in draconiche Che ci aveva messo Uno sbotto Veramente uno sbotto di tempo Se vi ricordate Quindi un pochettino Mi dispiace Ma vabbè Ci arrangiamo Vediamo Questa volta Se il danno aumenta di 10 Perché nella spada Aumentava in merita Non di 10 Ma di 9 Vediamo se con questa upgrade Ragazzotti Aumenterà di 9 10 Di più O di meno Già con il primo upgrade Comunque dovremmo superare Il danno della scorsa volta 75 ragazzi Aumenta di 15 Cioè già ora Già ora Siamo in stra positivo Rispetto a prima E beh è ovvio Che dovevamo fare tutte queste cose Comunque mentre qua va avanti Dovevamo fare anche altre cosettine Allora Qua i polli Intanto Vi faccio vedere subito una cosa Che praticamente Hanno figliato E hanno fatto Quelli che ci servono a noi Ovvero i rich slag Vabbè questi qua Che non so che cazzo siano Quindi facciamoli produrre Ciò che interessa a noi Che era quel materiale strano Le palle di neve Non so se le memorizzate Nel dubbio Ok ce le ho buttate Le memorizzate sicuramente ora I polli in avanzo Di palle di neve Li mettiamo qua E qua ha già finito Quindi passiamo al prossimo upgrade Che il prossimo Fermi tutti È già quello Quindi sapete che Quasi quasi Gli vado a mettere Tanto qua ragazzi Guardate che carino Ho messo tutte le cose già ordinate Quasi quasi Gli vado già a mettere L'upgrade degli RF Che tutto sommato Ci può stare Mentre quello ancora Del danno Quello dopo Di draconi Che penso che lo farò Off camera e tutto Però ragazzi Cioè 90 90 di danno La nostra spada Questa qua Prima faceva 60 di danno Siamo passati già In pochi minuti Da 60 a 90 È bellissima come cosa È veramente bellissima A questo punto Vediamo se posso anche Mixare l'arc Con qualcos'altro Eh no Posso soltanto caricarlo Niente E tra l'altro In RF Contiene 192 milioni A livello 1 Già ragazzi Prima La spada A livello 2 No era 3 Il tier No era a livello 2 Livello 2 è vero Conteneva 118 milioni Quindi c'è molto Molto di meno Perché ora contiene Così tanto Perché effettivamente Non c'è più solo la spada Dentro Ma ci sono altri utenzi Quindi in teoria Potremmo anche Levare il piccone Perché questo qui Ragazzotti Come avete visto Dovrebbe essere Anche un piccone Cioè è un piccone Che fa 90 di danno Ma dovrebbe essere una palla Dovrebbe schiamare Qualsiasi cosa Quindi dopo Lo andremo sicuramente A provare Qua non ha prodotto Ancora niente Ma è un pochettino lento Come normale che sia E ragazzi Per andare nel land Dovemmo avere un po' di roba Cosa intendo con un po' di roba Sicuramente ci serve La transmutation table Però Non possiamo metterci questa qui Perché va piazzata per terra Siccome noi dobbiamo fare Un volo di 7000 blocchi Ragazzi Ecco Atterrare potrebbe non essere il massimo Cioè Noi possiamo volare Rimarendo sospesi in aria Così ragazzotti Ve lo ricordo Però Se devo piazzarla per terra E non ci sono blocchi in giro È un po' difficile da fare come cosa Quindi Quindi Va fatto il tablet Eccolo qui Si fa semplicemente Con la transmutation table normale Un po' di stone E della dark matter block Easy Quindi prendo un po' di dark matter Cerco se ho subito Una transmutation table Ma non mi sembra Sapete cosa faccio Siccome io sono svogliato Come poche cose al mondo Me la vado a memorizzare Ragazzi Penso di averlo mai fatto prima Ma andiamola a fare Ah Infatti L'ho appena memorizzata Così almeno Non dobbiamo craftare Che non è nulla di difficile da craftare Però Non ho voglia Sono svogliato Io sono svogliato E poi Un pochettino di stone Allora I blocchi si facevano così Perfetto Tra l'altro ragazzi Wow Quanto li possiamo ottenere Veramente Potremmo farci Una casa In stile vecchi tempi E Sbamma ragazzi Il tablet È fatto Allora Come funziona questo tablet È una cazzata ragazzi Cioè fidatevi È una cazzata Vedete La transmutation table Ecco Vedete il tablet La stessa identica cosa Soltanto che Non va piazzato per terra Ma è una cosa che ho sempre dietro In qualsiasi momento Cosa bella Ti ero numerizzati IMC Ovvero qua ce ne ho 8 milioni E qua nel In quest'altra Ne ho sempre 8 milioni Quindi sono tutte In comune Come cosa È veramente figa Posso prenderci Qualcissiasi cosa Vi ricordate L'ultima volta nel land Che problemi abbiamo avuto Con appunto Le frecce Ecco qua scrivo Arrow Se lo sapessi scrivere Ok E ne posso prendere Quante ne voglio Quindi posso anche Non portarmi dietro Ragazzi Era una cosa essenziale Da fare Prima di andare nel land Ce l'abbiamo Ma continuiamo Perché giustamente Non possiamo Fermarci qua Va fatta la cosa Più semplice del mondo Dobbiamo fare qualcosa Ci dobbiamo potenziare Come ci potenziamo In vanilla Enchanted in table Ragazzi Proviamoci Perché no Ossidiana Diamanti E libro Tra l'altro L'abbiamo già fatta In passato Sapete che io mi ricordo Di sì Mi ricordo che infatti Ho fatto una storia Per prendere il libro Ma forse Esatto no C'è già qua l'Enchanted in table L'avevo creata Ma non mi ricordo Per quale motivo Beh intanto Andiamola a mettere qui Ma Bisogna fare anche Un'altra cosa Andiamo nella Draconic Evolution E cerchiamo L'Enchanter Non mi ricordo Di preciso a cosa servisse Però se non sbaglio Era una cosa Abbastanza importante Quindi vuole Smeraldi Draconic Core Due libri incantati A caso Non importa quali E un pochettino di Bookshelf Quindi prendiamo Tanti libri Libri incantati L'avevamo anche già memorizzati Quindi forse vanno bene Pure questi Spero di sì Ah no Questi sono libri Sono libri particolari Non sono quelli standard E io non so se vanno bene Ehm In quanto è questo qui Il libro delle quest E che cazzo c'entra Beh ma non ne ho altri Quindi forse Per forza deve essere questo Il libro normale Non lo so Vediamo No Non funziona la libreria così appunto E come mica facciamo ora Cioè non ho un libro normale Perché quando l'ho bruciato In automatico Mi è dato quello delle quest Ah Greve No non ho Non ho mucche ora disponibili Però forse Ho tutta la roba memorizzata Vediamo Sì La pelle ce l'ho E pure i fogliettini Bene 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 Perfetto Eh no Non l'avevo mai memorizzato Vedete L'ho appena presi ora Cioè Quindi avevo fatto la libreria Senza aver memorizzato i libri Che errore gravissimo Vabbè non importa Ecco qua Le nostre librerie Si vanno a memorizzare Ne prendiamo un pochettino A quanto ci serviranno Dovrei fare anche Un coso più serio Però lì Vedremo poi con calma Tipo una stanza Che vorrei mettere appunto Le librerie E l'enchantment table Dovrei avere tutto In teoria Quindi metto questo qua Questi erano sopra I libri In questo punto Qua draconic core E sotto le bulk shelf Ok Disenchanter Non mi ricordo come funziona Minimamente proprio Devo metterci se non sbaglio Le armi qua dentro incantate Poi lui mi dava il libro E potevo avere l'incantamento separato Non mi sembra avere armi incantate Per il momento Ma comunque potrebbero capitarci Quindi riteniamo Così almeno Sappiamo che facciamo delle cose giuste Allora A questo punto Andiamo a riprendere La nostra arma da qua Che un pochettino si è caricata Non tantissimo Ma un po' si è caricata E vediamo se possiamo Incantarla brutalmente Nell'enchantment table Normale Mettiamoci un pochettino I rapi slazzoli Esce sharpness 1 E sharpness 1 Io ce lo metterei Anche Suppongo No Facciamo prima con i libri Forse è meglio No Non escono incantamenti Che mi servono Vabbè ragazzi Proviamoci Proviamoci Sti cavoli Fa 90 di danno Con sharpness 1 Quanto farà di danno 91 Ok Quindi incantarla Non serve a un cazzo Cioè aumenta il danno standard Che fanno sulle cose normali Ma assolutamente Non ci cambia nulla Quindi potremmo anche Rinunciare direttamente A questa cosa Mentre Potrebbe essere interessante Però l'armatura Con protection Eh sì L'armatura Ragazzi non lo so Ditemelo voi Allora perché se voi mi dite Se io leggo i commenti In cito Si tanno Fai l'armatura con protection Io off camera Mi metto a creare una stanzettina In cui ci metto appunto Un chanting table E mi incanto tutto Anche con protection 2 o 3 Se no No Però dovete dirmelo voi Perché io non so Se conviene realmente Oppure no In teoria sì Perché poi quando l'armatura È scarica Che si infrange lo scudo L'unica cosa che conta È la vera protezione Dell'armatura Che non è tantissima Perché ripeto Dovrebbe essere tecnicamente Semplicemente una full diamond Quindi cos'è meglio Una full diamond O una full diamond Incantata Beh in teoria Quella incantata Giustamente A questo punto ragazzi Io vi Oh shit Volevo vedere Quanto scavasse Velocemente Ha one shot Questi blocchi Proviamo con Il blocco di terra qua Shotato ragazzi Wow Proviamo il blocco di cobblestone Distrutto instant Ragazzi ok Questo piccone qui È il piccone Definitivo C'è una È la spada piccone Definitiva Quindi a questo punto Io andare a levare Questo qui In red matter Vediamo una cosa Molto particolare Ad esempio Abbiamo visto che Questa fornace qui Era praticamente indistruttibile Con tutti i piccone Ok no È indistruttibile Perché vuole il suo piccone Originale Senzalmente Non è che questo qua Non è abbastanza forte Ma non lo accetta Non lo riconosce Quindi non lo puoi rompere Con una cosa che non lo riconosce Va bene Però è OP È un piccone OP ragazzi Non c'è molto da dire Molto molto più forte Di quello In dark matter Red matter Quello che è E tra l'altro Posso metterci pure Gli upgrade anche qui Che fa scavare più velocemente E tutto Ma attualmente Non ci interessa Ma quindi Abbiamo finito qui Ragazzotti Quindi assolutamente no Intanto questa qui La poso da qualche parte A caso Tipo qua Va benissimo Io ho avuto All'inizio dell'episodio Ho trovato nel nether Questa anima Di zombie pigmen Non so cosa farci Non so Veramente Non ne ho la minima idea La metto qua dentro Oh Trovo carina come cosa Da farvi vedere Dentro Questa bag ragazzi Ho trovato Una mela d'oro OP Perché l'ho lasciata Dentro la bag E non l'ho tirata fuori Perché magari qualcuno Poi non ce la dice No Tano te la sei citata No non è vero Perché se io levo Una cosa da qua dentro Poi non ce la posso Rimettere dentro Cioè sentite che sto cliccando Non ce la posso Rimettere dentro Quindi Il fatto che sta qua dentro Vuol dire che effettivamente L'ho trovata lì dentro Ora possiamo buttare tutto E ragazzi Un'ottima cosa Perché in questa versione qui Se non sbaglio Le mele d'oro Non sono craftabili Infatti qua dice Che si può trovare Nelle loot bag E basta Non si può craftare Si può trovare nei dungeon Però nei dungeon Noi non l'abbiamo mai trovata E ovviamente Se dobbiamo andare a affrontare Un boss mega potente Possiamo andarci solo Di mele dorate E no ci dobbiamo andare Con le mele op ragazzotti Quindi ottima cosa Che abbiamo trovato Le mele op Ma perché qua Ho un'altra bag d'oro Senceramente Nemmeno non lo ricordo Cosa ci avevo trovato dentro Ah si C'era il vibrant allo ingot E non sapevo se fosse buona O no Come cosa Quindi vai Lo tengo Non si sa mai Cosa che ripeto Forse l'hanno già trovato Perché Ecco no Non l'avevo mai Fatto imparare alla cosa Quindi forse Non si era mai trovato prima Benissimo ragazzi Nuovo materiale Qua tra l'altro Ho 8 missioni da accettare Tra l'altro Una delle water egg What Davvero Ok vabbè Facciamone tutte Oh golden apple Ragazzi Chi vi da una loot crate Leggendaria Già è vero Perché c'era C'era la missione Della mela op Già già me l'avevo anche scordato Poi abbiamo fatto quella Di polli Totalmente a caso Non me ne sono nemmeno Reso conto Quando come perché E abbiamo fatto la missione Del draconium Ragazzi Non mi ricordavo ci fosse Un'altra loot crate Leggendaria E 100 dollari Ragazzi 100 dollari E poi abbiamo anche Quella del vibrant allo ingot Che abbiamo appena fatto Chi vi da una loot crate Rara E 20 dollari Ragazzi Wow Abbiamo fatto un botto di soldi Totalmente a caso Veramente Quindi da 227 dollari Passiamo ragazzi A 404 Abbiamo praticamente Raddoppiato I dollari Che avevamo E' un'ottima cosa Ragazzi Cioè Non c'è molto a dire E' un'ottima cosa A questo punto Finiamo l'episodio in bellezza A prendere un pochettino di robe Abbiamo trovato Un magnete misterioso Tra l'altro Un valore in MC Quindi subito memorizzato Livello 4 E' inattivo Ok Loot crate Leggendaria M F S U Ragazzi Allora Questo qui è un trasformatore Dell'industrial craft Praticamente Avete presente I Questi qua I pannelli solari Che abbiamo trovato Di livello 2 Ecco Non so se quelli di livello 2 Lo fanno Però quelli di livello superiore Sicuramente si Se li va a collegare Alla corrente di casa Tipo a questi macchinari qui I macchinari esplodono Quindi servono I convertitori di corrente Che abbassano il voltaggio Cosa che succede Realmente nelle case normali Cioè a voi A casa la corrente Arriva a 220 volt Ma nei tralicci della corrente Passa a chissà quanti volt Altissimi E se collegaste quella corrente I macchinari di casa Esploderebbero Questo qui è una cosa Molto costosa da fare Tra l'altro Posso anche farvi vedere Il crafting Guardate cos'è il crafting Vuole questi L'apotron crystal Advanced circuit E poi l'MFE Che l'MFE E il convertitore di corrente Però di tier 3 Questo qua invece di tier 4 Il tier 3 si fa sempre In questo modo qui Insomma è così via E' una cosa molto figa ragazzi E sono veramente felice L'ho trovato Perché ci servirà in futuro E non ho voglia di craftarlo Assolutamente Ultima loot crate Ragazzotti Iridium No No ragazzi Non ci credo No ragazzi Non ci credo Non è vero Ragazzi Non è vero Voi sapete Cosa sono I polli di Iridium L'Iridium Ragazzi E' una delle sostanze Più importanti Che ci siano Ci possiamo fare Armature potentissime Ci possiamo fare Spare potentissime Non so se è più potente Delle mie Possiamo farci Veramente Tantissime cose Molto importanti Per andare avanti E tra l'altro Provate a indovinare Un pochettino Per farmare Queste cose qua Perché l'Iridium Se non sbaglio Ci sarebbe di fare La Yu Yu Matter La Yu Yu Matter Dovrebbe essere Iridium Processato Una roba simile E noi Avendo polli Iridium Dovremmo fare una mega farm Così Di polli Oh mio dio ragazzi Non ci credo Allora Questo va fatto subito Dov'è il pollizzatore? Eccolo qui Vanno messi per terra Sono piccolini però Bisogna stare attenti Ok uno è grande Subito lo pollizzo Lo metto E questi li possiamo Anche levare di torno In effetti Lo metto subito Qua dentro Ragazzi Cioè abbiamo Praticamente Iridium Infinito Che bello E qua Vabbè Ci ha già fatto Il Rich Slag Li faccio farmare Perché tanto Non ha valore in MC Quindi più ne faccio Meglio è Effettivamente Anche se ce ne serve Sto dando un pezzettino Se non ricordo male Però Vabbò Dettagli Allora Prendo un pochettino Di semini Così gli ridiamo E cresce in teoria Più velocemente Infatti ora 8 minuti 7 minuti 5 minuti 2 minuti Dai 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 Ok ok Dovrebbe crescere Tra 40 secondi A questo punto aspettiamo Lo mettiamo qua dentro Così si riproduce E ragazzi Wow Cioè guardate Cosa avrei dovuto fare Per craftarlo Unire il Blitz Road Chicken Con Lenderium Non voglio nemmeno Andare a vedere Come si fanno Questi due polli Non mi interessa Nemmeno proprio Mentre Se lo unisco Al gold Ottengo il mana Infused Potrebbe essere buono Magari Non lo so E il pollo Però mi dà le nugget Non mi dà i lingottini O altro Sono curioso Il mana Infused però A cosa serve Ci dà il mana Infused Ingot Ok E poi non ci si può fare altro Ma questo mana Coso E' così buono Da essere così complicato O l'hanno messo Semplicemente a caso Perché sono lezzi A mio parere L'hanno messo a caso Però vabbè Ok è cresciuto È cresciuto Mettiamolo qua dentro Ragazzi E facciamoli Accoppiare Perfetto Il processo sta cominciando E' stra Stra lento Ma poco a poco Ragazzi Ne avremo tanti Non so se ci metteremo Un giorno Due giorni Una settimana Un mese 20 anni Ma poco a poco Ce la faremo A questo punto ragazzotti Fatemi sapere con un commento Se ne vale la pena Di incantarsi l'armatura Oppure no Nel prossimo episodio Come già detto Probabilmente Andremo nell'end Ad affrontare Il boss finale Che poi non è proprio Un boss finale Perché Però comunque è difficile Non so nemmeno se ci riusciremo Secondo me no E niente ragazzi Ciao a tutti